AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA like a a a a a a o a a e a a a a a o Ieeeeee la pedopilia non è una bella cosa ragazzi dovetoi smetterla IAAAAAAAAAA Iiiiii Ti rogo Oh ma siamo nelah Si sente? Ma com'è che non si sente? Ahia! Si! Ma perché? Di maffa! Sta maffa! Sta maffa! Ma perché? Ho ne sparmo su di qua! Ne sparmi! Non te ne andai, Ernie! Non me ne vado, Giannico! Non me ne vado! Sanguis Minimus Corpus Animus Sanguis Minimus Corpus Animus Digga! Anzano! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.